non devi evitare senti guarda dovrebbe avanzarmene una cinquantina se ancora ti serve serve sempre io l'ho preso un poco guarda scendi un attimo a casa che c'hai una porta aperta c'ho una porta aperta? ok chi mi apre le porte? chi è quel pirla che chiude la porta? è Daniel chi è quello? è Daniel vedi Moscone è morto senza sapere chi era quel pirla che chiudeva la porta che sbatte la porta era Daniel nooo che cosa hai fatto? hai tirato la lava sulla... in acqua no peggio sei etero in acqua peggio Manfredi peggio sei caduto che c'è la tavola ok hai premuto giù è quella tavola esatto ho finito di nuovo sti cazzo di vasi porco giù da posti vasi del cazzo sei proprio un vivaio sono proprio un vivaio sì quanto è bello sto piramide grazie qui è la piramide del gizza oh funziona sono troppo forte ecco bravo 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 deficiente nooo non funziona devo mettere più acqua oddio sai che mi sono dimenticato ah ecco che mi servivano what the fuck claudia claudia posso domandarti che cosa stai facendo claudia secondo me tu non stai fumando tabacco il tabacco non fa questo rumore questo è quello che racconti tu infatti non sono tutti l'olio eccola vediamo se funziona yes e se non si è arrivata una stellina ho sentito il rumor eccola ma non stai spostando le cose nostre ne stai facendo altre no? si senti però non fa cose che richiedono minerali guarda che casona o chi ce l'hai con me? andava con Valentina che sono da vedere oddio decoratela tipo in rubino o minerali oh cazzo sono esploso ok riaccomi qui hola 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 che passa? e benvenuti in un nuovo let's play dei Technic Pack sai che ho problemi con la Technic sulla cosa ma sei sicuro che sia con la Technic non sia tu? Technic Technic non mi fa la update davvero? ciò è molto curioso per non dire irritate come possiamo provare a risolvere il tuo problema mio caro simone mio caro simone hai provato a cancellare la cartella Technic che ti da che ti apre in update niente nate 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 malanima mumble 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 sopra la piramide posso fare un generatore di acqua? va bene oddio non mi ho detto ci vuole fare le cascate si si può fare a una certa trovi un tizio che ti vende una pompa ora non fa le battute se tu la metti in un diciamo la metti in un sistema ben preciso l'acqua si sdoppia cioè con un secchiello fai due secchielli è una specie di bug voluto si vuole tu stai sprecando del ferro per fare quelle statue del cazzo che te frega non sprecarlo tanto dopo sudamo con i shit si mi piace e ti voglio fare sai che mi servirebbe un paio di anvil no gli anvil non li fa è ironico no non ci provo a fare gli anvil ma guarda come hai disposto le torce ti faccio senti claudia per quella piramide si una decorazione non ti dico cosa rossa verde blu o gialla io direi blu è egizia si blu è giallo ah no cazzo ne posso fare solo una possibile e allora un blu solo poi andremo avanti ma con quel materiale con la merda mmm ottimo si è merda con grey ottimo direi viene colorata tadam ho messo uno standardino figo quando quando troviamo un sacco di ragnatele poi lo lo riempiamo bella sta piramide si piace si che è sta roba qua sotto ragnatele quelle sopra ma ah io ce ne avevo due no lasciale che figa eh lo so ma se se ci vai sopra ti se leva ah salve sono suor cesira pulisco piramide di nome uyugo sentila quando vogliamo tipo conclude adesso adesso mette l'ultimo due torce fammi piantare le ultime due piante pianta la pianta voilà i mostri si sono completamenti di canticati di noi shhh bono che qua ci caricano ci fanno il chiusone ecco fatto bella bella mi piace non so se lo mai entrare in giugo hola tan tan taradam tan tan eh puoi che cosa è figa mazza quanto ho scavato si una cifra sali su oh che figo questa è la la cosetta automatica no automatica no però probabilmente ti ricordi le foglioline che prendevo nel deserto si qua sotto stanno immerse nell'acqua quindi subito puoi prendere i semi queste invece solo quando si illuminano e queste qua del giorno quando esce il fiore giallo e tu le prendi col piccone e ripianti subito il seme vabbè andiamo ad ugo e chiudiamo che tutti vengano ad ugo ma dove c'è stato andato andiamo dentro dentro sono da ugo io ti immagini ora non ho registrato niente mi raccomando non invitate mai i celli e Daniel tiè stelliamo ok con questo si conclude questa sezione sessione di puntate ciao Claudia Claudia sei morta? ciao sei morta? ciao 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 ho preferito pure il saluto c'è cosa che ciao satellite ciao 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 Grazie.